ragazzi buongiorno mi raccomando per chi volesse sostenere questo canale lo può fare gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina basta un semplice click il giornale di Pechino è tornato in azione stamattina lo stesso giornale che sei mesi fa parlava di una ricapitalizzazione di cento e rotti milioni del signor Zange che ovviamente non c'è mai stata allora io dico stiamo arrivando al ridicolo perché se voi leggete quella specie di articolo che hanno scritto stamattina scrivono che Oktri non concederebbe una proroga molto lunga ma di un annetto perché questo annetto serverebbe per a Zange per risanare il club già da quello capisci già da quello puoi aprire cioè che Valenza possa avere un articolo così squinternato scritto non so a che ore della notte magari uno quello lì ci aveva sonno di giornalista cioè praticamente Oktri da tempo al Zange per risanare il club un club che chiuderà in perdita o l'ennesima perdita anche quest'anno un club con un miliardo di debiti e più con uno che è sparito a proposito dove è andato a finire il cinese non lo so dove è il cinese ragazzi con un desaparecido che è sparito con uno che ha trecento venti milioni da restituire con uno e si dichiara nulla tenente il giornale di Pechino scrive che Oktri concede una proroga per fargli risanare il club questa questa è bellissima perché poi siete gli stessi avete scritto che Zange avrebbe ricapitalizzato cento milioni metto l'articolo in descrizione dopo non ci sono problemi vedi 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 questa questo è il giornale questo giornale qui dà addosso a noi tifosi interisti ma difende lui ve l'ho sempre detto perché ci sono le amicizie di mezzo lui Monosciglio Cairo sono tre amici che si danno una mano l'uno con l'altro capito qual è il discorso soprattutto Monosciglio che lo convinse a continuare perché lo infinocchiò con la Superlega Monosciglio quando convinse il suo amichetto Steven anche perché poi a me vedere il presidente dell'Itre che si sbaciucchia a quello della Juve a me non mi piace per nulla sbaciucchia i termini di amicizia attenzione sto parlando di amicizia perché sono amici per la pelle sono grandi amici Monosciglio e Zange tienitelo te un presidente così squattrinato e mezzo gobo la forza propulsiva dei pochissimi investimenti fatti da questa specie di proprietà la forza propulsiva sta finendo siamo arrivati quasi in porto quest'anno è stato fatto un miracolo calcistico è stata fatta un'impresa perché la seconda stella ragazzi è un'impresa e sicuramente vanno dati complimenti anche a Zange ci mancherebbe per quel poco che ha potuto fare ma poi dopo lui è riuscito a sporcarsi perseverando continuando a fare il presidente a zero euro perché così il presidente lo fa anch'io mi metto all'interno metto un euro sparisco il presidente smart working senza senza mettere un euro lo possiamo fare tutti noi ragazzi ma non gli faranno smantellare non gli faranno distruggere a Zange non gli hanno anzi parlo al passato non gli hanno fatto distruggere un giocattolo perfetto perché questa è una squadra oltre la forza propulsiva che è finita è una squadra che va quasi rifondata perché purtroppo ci sono tre quattro titolari che hanno più di tre che hanno trentacinque anni davanti mancano almeno due attaccanti anche se è vergognoso secondo me criticare Turam criticare Turam è vergognoso poi è vero le critiche ci stanno a quei livelli appena sbagli ti legnano però criticare Turam secondo me è vergognoso dopo tutto quello che ha fatto questo ragazzo primo anno d'Italia eh primo anno d'Italia ricordatevi primo anno d'Italia di Martinez che di Fiotta ebbe ma anche il secondo ricordatevi il secondo anno di Lautaro Martinez quando incominciò a giocare titolare non aveva le performance del primo anno di Turam eh e soprattutto Lautaro non ha mai avuto performance così alte come quest'anno ma non l'ha mai avuto e anche perché non aveva mai avuto un compagno come Turam parliamoci sinceramente non l'ho definita io la coppia una delle coppie più forti d'Europa eh ragazzi lo dicono gli esperti non lo dice Giuse dieci perché a Giuse piace Turam quindi questa qui con il prossimo anno ci sono settanta partite questa è una squadra che non può reggere due competizioni parlo della rosa attuale perché ci sono tredici quattordici giocatori buoni il resto è incommentabile devi piazzare Arnautovic Correa tutta gente che hai pagato e che ora non ti serve più servono soldi investimenti ma l'articolo del giornale di Pechino si annulla da solo quando loro stamattina scrivono che O3 lascerebbe a Zhang un altro anno l'Inter per risanare i conti da lì capisci tutto non è che ogni tanto sparisco ragazzi a volte prendo l'aereo per andare al lavoro ero dall'altra parte dell'Italia e riunioni e non ora settimana prossima sono spesso in ufficio quella dopo risarò fuori non è che sparisco ragazzi perché se fosse per me farei quattro cinque video al giorno due tre live una live almeno a sera purtroppo non ho tanto tempo ma secondo me è meglio prediligere la qualità che la quantità quindi stamattina facciamoci una grassa risata su quello che scrive il giornale di Pechino anche perché leggere che O3 concede una proroga a Zhang per risanare i conti è veramente da barzelletta e da zelica quest'articolo ci becchiamo più tardi ciao Inter Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.